Un violentissimo temporale con forti raffiche di vento ha provocato danni ieri sera in diverse zone di Tiene. In particolare il maltempo ha causato la caduta di un grosso albero in via San Gaetano, non lontano dalla sede della biblioteca. Sul posto è intervenuta in breve tempo la polizia locale del consorzio nord-est Vicentino, che ha messo in sicurezza la zona. Sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di sgombero.